La minoranza fa un soluzionismo su qualsiasi cosa arrivi in Consiglio Comunale, però credo che su un interesse pubblico come quello dell'accessibilità all'ospedale, in particolare all'area emergenziale, quindi ad esempio pronto soccorso, credo che sia interesse di tutti i cittadini in primis dare una risposta veloce. Questa amministrazione dopo tanti anni, dopo decenni, è riuscita a darla, abbiamo tirato fuori dal cassetto alcune idee e le stiamo portando avanti in maniera convinta. Ora la palla passa all'URSS che deve procedere con il riperimento delle finanze e con la presentazione di un progetto che veda il raddoppio dei posti a San Francesco. C'è questo problema dei parcheggi? C'è un problema dei parcheggi sia per i dipendenti che per l'utenza, interverremo probabilmente grazie ad IEM e a URSS a una riqualificazione del Parc Rodolfi, in via Rodolfi, con illuminazione pubblica, con videosorveglianza, con un parcheggio a sbarre, con nuove alberi e una nuova pavimentazione.